Catapultarsi d'improvviso nella suggestiva atmosfera di un borgo storico all'interno di una corte in festa tra odori e fragranze tipiche della vita contadina come in un perfetto set cinematografico un'ambientazione insolita e suggestiva è stata ricreata tra le mura di un locale in città. Siamo a Berletta all'interno dei salotti di gioia pronti a trasformarsi di occasione in occasione nelle location dei propri sogni. L'idea è delle più originali frutto dell'essere creativo di una giovane donna imprenditrice che ha avuto il coraggio di osare in un periodo non certamente facile come questo inseguire le sue aspirazioni ma soprattutto realizzare i desideri di chi intende rendere unici ed originali i propri eventi speciali. Degno di nota dunque l'impegno profuso dalla gioia design e dalla sua responsabile la giovane barlettana Angela De Martino che dopo aver inaugurato i suoi spazi con un evento pensato per i più piccoli ricreando per loro una magica ambientazione disdegiana con i personaggi di encanto ha pensato anche agli adulti. Porti aperte dei salotti di gioia per una domenica davvero originale tutta made in Puglia tra le coinvolgenti note musicali della street swing music spazio a canti e danze tipiche della vita contadina in una location trasformata per l'occasione in una corte rurale tra balle di fieno sacchi di iuta e spighe di grano. Parola d'ordine puro divertimento e spensieratezza elementi fondamentali per rendere il proprio evento unico ed originale e poi del resto si sa i sogni sono desideri e come recita la più bella favola di sempre tu sogna fermamente dimentica il presente e il sogno realtà diverrà grazie a tutti grazie a tutti